Una prova confortante, un Vergani sembrerebbe ritrovato, soprattutto la vittoria. Fondamentale ai fini della qualificazione. Agli ottavi di Coppa Italia il Pescara ospiterà in gara secca e latina, ma soprattutto per il morale, dopo tre capo consecutivi. Protagonista l'attaccante Biancazzurro, che prima di ieri sera aveva giocato appena 28 minuti in campionato e 55 in Coppa un mese fa, contro la Fermana. L'ex Inter ha segnato il gol vittoria e in avvio di ripresa, ispirato da una gran giocata di De Marco, ha colpito il palo con un tocco morbido a scavalcare il portiere ospite. Ma a convincere è stato soprattutto l'atteggiamento dell'ex Inter dal punto di vista mentale e tattico. Le qualità tecniche erano ben note, che sia per Vergani un nuovo inizio è l'auspicio di tutti. La vittoria all'Adriatico mancava dallo scorso 5 ottobre, 6 a 1 in Coppa contro la Fermana, per la seconda volta dall'inizio della stagione, i Biancazzurri non hanno subito gol. In precedenza, in campionato, era accaduto solo contro la Vis Pesaro. Finora, nelle 30 gare della gestione Zeeman, Coppa Italia compresa, il Pescara ha mantenuto la porta inviolata in tre occasioni, contro Picerno, Vis Pesaro e appunto Pineto. Ed ora test al Rimini, ospite dei Biancazzurri lunedì prossimo alle 20.45. Al posto dello squalificato Masic dovrebbe giocare, condizionale, quanto mai di rigore, Davide Di Pasquale. Per l'ex Foggia sarebbe l'esordio in campionato. A centrocampo assai probabile l'impiego del trio Tuniob squizzato a loi.